Un grande laboratorio tessile a Morgano, provincia di Treviso, che operava come fornitore di aziende trevigiane, trasformato in discarica e insolvente con il fisco da 13 anni, è stato sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso al termine di un'indagine che ne ha ricostruito la gestione di fatto completamente illegale negli anni. Prima dell'attuale ditta, infatti, altre nove imprese avevano operato nella stessa struttura. A partire dal 2009 si sono succedute in media ogni uno o due anni. L'inchiesta ha appurato che si tratta di imprese apri e chiudi che, dopo aver maturato rilevanti debiti con il fisco, hanno trasferito personale e macchinari nella successiva impresa, costituita ad hoc, che ha continuato ad operare sempre nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo nome e partita IVA. E' emblematica anche la circostanza che le aziende, tutte gestite da cittadini stranieri, abbiano accumulato in 13 anni debiti con l'erario per oltre 2 milioni e 600 mila euro. L'ultima impresa si era costituita lo scorso agosto. Il laboratorio tessile, del valore di circa 100 mila euro, era gestito in condizioni di completo degrado, con diversi fattori di pericolo anche per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Durante l'intervento, i finanzieri hanno posto i sigili a 30 metri cubi di scarti tessili sparsi in ogni angolo dei locali aziendali e 21 macchinari per la lavorazione dei capi di abbigliamento, tra cui macchine per cucire, banchi da stiro e da lavoro e una pressa per bottoni. Il laboratorio era privo di ventilazione, uscite di sicurezza, carente dei più basilari requisiti igienico-sanitari e persino dell'illuminazione per non mostrare come fosse attivo anche in ore notturne. Infine, mancava anche delle minime misure per lo smaltimento degli scarti di lavorazione e anche per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori. L'amministratore della ditta è stato denunciato per violazione della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.